21 e 52, adesso cominciamo a leggere un po' di messaggi, altrimenti è Giulio, non ce la facciamo davvero, ce ne sono credo diverse anche per Tommaso Gialdini, il primo però lo rivolgo a te, fra pochi minuti vedremo le immagini della gara di andata, quando Tommaso non c'era ancora, era la massese, buonasera, una domanda per l'opinionista Castagnoli, come vede la partita di domenica prossima con la Termal e se la sente di fare un pronostico, personalmente dice Rosso Nero 40, mi sa che sarà una partita assai difficile e rognosa, grazie per l'eventuale attenzione, quindi l'eventuale è diventata attenzione, ti risponde l'opinion leader Giulio Castagnoli. Obiettivamente e onestamente ti dico che all'andata non mi fece una grossa impressione questa Termal Ceccato, Abano, è anche vertici della classifica, è una squadra che comunque sia con la sconfitta di domenica scorsa in casa col Castelfranco, credo che abbia dimostrato comunque di, non dico aver mollato, però ecco magari amministrerà le forze per poter raggiungere una posizione nei playoff che credo che non gli sfuggirà, tutto sommato è una delle migliori squadre. Non lo so però, sono quinti, la Massese è lì, Romagna Centro. Vabbè, insomma si giocherà un posto nei playoff, dobbiamo fare attenzione a Revolpato che secondo me continua ad essere il giocatore di spicco di questa squadra qui, un ex professionista, scuola Juventus, e niente, credo che comunque come ha detto giustamente anche poi Luca nell'intervista le motivazioni se non sono triple sono quadruple o quintuple per cui la forza della Lucchese non è inferiore assolutamente a nessuno, correggese compresa, per cui credo che è una partita difficile come tante altre, però se presa e impostata nella giusta maniera, col giusto approccio, secondo me i tre punti non dovrebbero sfuggirci. Senti, adesso la regia Tommaso ci proporà alcune immagini della partita dell'andata, tu eri sempre a massa, la Lucchese vinse una zero con un gol di Matteo Nolè, insomma uno che per giocare a centrocampo ha qualche gol ha già fatto, tu però hai giocato probabilmente contro l'Avano Terme quando eri in massa? No, non giocai perché ero infortunato, saltai la partita, fu la prima sconfitta perché partimmo forte, si facevano cinque vittorie consecutive e fu la prima sconfitta quella. Senti, qualcuno, quindi che veri ti sei fatto di questo Abano Terme, non lo so? Secondo me partendo dalla base, quindi dalla portiera, è un gran portiere perché è veramente forte. Questo è il gol di Nolè intanto, abbiamo visto. È veramente bravo fra i pali e spesso, ho visto immagini di alcune partite, tiene a galla la squadra perché è veramente bravo. E poi davanti c'è Volpato che è uno che ha giocato nei pressionisti e è veramente un attaccante di categoria superiore. Quindi uno da tenere sempre, dici? Sempre con occhi di riguardo, sì. Vabbè, invece la Massese partiste fortissimo, cinque vittorie nelle prime cinque partite. Sì, e poi... Cosa è successo? E poi secondo me un po' di un calo fisico, abbiamo avuto un calo fisico e poi insomma la prima sconfitta forse l'abbiamo accusata più del dovuto e c'è stato un periodo un po' negativo. C'è chi dice che la Massese, visto il calendario, potrebbe essere una delle squadre che potrebbe fare da giudice di questo campionato, visto che nell'ultime giornate ci dovranno giocare sia la Lucchese che la stessa Correggese. Addirittura la Correggese, se non ricordo male, è la penultima a Massa. Sì, mi sembra di sì. Ma speriamo che ci diano una mano in questo sicuramente. All'appello che lancia a Massa è quello che ci vedono anche tra l'altro. Senti, il rapporto con Tazioli com'è stato? Ma un buon rapporto perché comunque è una persona che per quello che l'ho conosciuto dice sempre quello che pensa, quindi quando c'è chiarezza… Ti piacciono le persone schiette che ti parlano in modo chiaro? Sì, quando c'è chiarezza penso che sia la base per avere dei buoni rapporti. Persona schietta mi pare che sia anche Guido Pagliucano. Molto schietta. Molto schietta? Molto schietta, sì sì. Ti richiama mai dal campo un panchino? Ti ha mai richiamato quando hai giocato questi pochi… Ah sì, quello sì sì, chiaramente richiama tutti. Anche durante la settimana diciamo che richiamano. Sì sì, richiama indistintamente tutti. Sempre molto molto sul pezzo diciamo. Va bene, Giulio? Vado? Vai. Allora, questo qui ce lo manda una scelta Annina Lamora e dice volevo fare complimenti a quel bel ragazzo in studio. Ora, visto che il ragazzo non sono più io e nemmeno te, tanto meno io. Credo che il messaggio sia per Tommaso. Quindi Annina Lamora… Ringrazio Annina. Poi lo faceva andare a casa la fidanzata tra lei. È fidanzato? Sì. Di pesce? Di pesce, sì. Però a pesce non ci vedono stasera tanto. Purtroppo temo, non ci vedo. Tra l'altro, ecco, chiamarono anche i tuoi concittadini perché vorrebbero vederci. Sì, c'è una fetta di pesce, forse non lo sapevi. Poi verifica adesso, fai una verifica. Verifico allora. Che insomma ci terrebbe a far parte di Lucca e della provincia. Vado? Vai. Allora, Azza75. Azza. Azza 75. Dice, un saluto di cuore all'idraulico Fauzzi. Forza Lucca. Sì, vabbè, stasera sai la notizia della serata, abbiamo parlato del TG. Sì. Per la vicenda della campagna elettorale 2007, vabbè. Chiudiamo qui. Allora, incrociando le dita, la vittoria di domenica negli ultimi minuti ha lanciato un messaggio positivo ai fini della vittoria finale. Quindi, forza lucchese, tutti allo stadio. Grande Giulio da Antò. Questo è il nostro amico Giovanni Coltopassi che ci scrive e dice, si perde a Correggio perché c'è Ligabue. Vabbè, ha sempre voglia di fare lo spiritoso. Vabbè, Giovanni, ha sempre voglia di fare lo spiritoso, non lo so. Sì, Ligabue non ha mai nascosto che, tra l'altro, ha grande simpatia per la squadra del suo paese, della sua cittadina, perché poi, Correggio, tu che sei geograficamente informato, che sapevi tutto su San Colombano all'Ambro. Eh, Correggio, Reggio e Mena. Infatti la cittadinanza non te l'hanno ancora data, su San Colombano all'Ambro. Di Correggio cosa ci puoi dire? È presto. Ah, non ti sei ancora. Scusa, se mi devo informare, anche perché, ti ripeto, secondo il mio modestissimo parere, a Correggio, Polazzi, che la sospetta si salti a pieppari tranquillamente perché siamo tutti al mare rilassati. A proposito di Terma, lo abano Terme, che dir si voglia, domenica, c'è una domanda per te, Tommaso, domenica con la Terma al Pagliuca potrebbe darti un'altra chance per metterti in mostra. Ti senti pronto e quale prestazione hai in mente di fare? Vabbè, intanto lui adesso dirà, vediamo se intanto mi fa giocare, poi. Prima di tutto vediamo se mi schiera. Poi, chiaramente, quando uno va in campo va per dare il massimo. Sicuramente nessuno parte con l'intenzione di... Tu ti senti pronto ora, voglio dire, sì? Sì, 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 sì. Anzi, penso anche particolarmente... Spero che... Perché poi dalla partita, la famosa partita con Romagna a centro, non sei più partito da titolare o sbaglio? Con il Riccione. Con il Riccione partissi titolare, sì. Ma spero di avere l'opportunità di giocare, se poi non ce l'avrò, cercherò di farmi trovare il punto nel momento in cui... Nel momento in cui ti butterà dentro. Giulio? Vado. Giulio, sono Shadi, The Original. Dai che domenica... Attenzione perché è al fine questo messaggio. Dai che domenica è la prima delle ultime quattro giornate che giocheremo in questa categoria, in casa. Pensiamo che la prima giornata della stagione in casa 2014-2015 sarà in Serie C. Io ci credo e sempre Forza Lucca. Lo speriamo tutti, abbiamo già detto qualche settimana fa, ai tempi che vengono anche il Presidente, ce lo confermò quella sera anche l'ingegner Carmelo Sgro, la società non l'ha mai nascosto, che comunque è chiaro che la bellezza del calcio, Tommaso è vincere sul campo, però qualora nella malaugurata delle ipotesi la squadra non riuscisse a fare la promozione diretta sul campo, la società si è già mossa da tempo per vedere se è comunque questa categoria. E' chiaro che cambia tutto. Una Serie C, chiamiamola Serie C, tanto per essere chiari, come sarà il prossimo anno, unica, 60 squadre, 3 gironi da 20 con tutte le prospettive, so che lui parla sempre di Lucchese-Pisa, il mister e così, però ci sarebbe Lucchese-Viareggia, darebbe una prospettiva che possiamo anche immaginare, ma che forse non riusciamo neppure del tutto a immaginare. Beh, sarebbe un salto doppio, perché salta una categoria e quindi dopo poi, se uno guarda ancora più avanti, se vinci poi avancierebbe. Non so se mi hai letto i libri di fantascienza, sarebbe come un viaggio ipergalattico, entrando in un buco nero, ti ritrovi in un'altra dimensione. In un'altra dimensione, bravo, sì. Vai Giulio, sei mai tra il volo, ipergalattico ti è piaciuto. Questo è per te Guido, dice, per me Guido chiacchieri un po' troppo. Questo tifoso ci scrive così. E confermo che avete ragione, e mi scuso se questo accade, cercherò di migliorare anch'io, no? Vai. Questo ce lo scrive Dario e dice, andare in Lega Pro è fondamentale, anche per il settore giovanile. Dice, mi riferisco al tipo di campionato dai dilettanti ai professionisti. Vuol dire che anche per il settore giovanile, giustamente, si aprono panorami diversi, no? Chiaramente. Vorrei toccare l'argomento del settore giovanile, ma ci puntano davvero? Tanti allenatori si lamentano, le società di Lucca non ci vedono di buon occhio. Cosa ne pensate? I soldi ci sono o no? Grazie, Leo. Giulio, i soldi ci sono o no? Ma che sono io? No, vabbè, sul settore giovanile mi pare che... No, ma rispondite, sennò poi dicono che c'è che lo trovo. No, che c'entra, per quanto riguarda il settore giovanile credo che ci puntino assolutamente. Poi, è chiaro che essendo una società nuova, comunque sia, riorganizzata da quest'anno, con l'arrivo appunto anche di Rosadini, investe di general manager, chiamiamolo così, appunto del settore giovanile, chiaramente qualche errore sarà stato fatto. Probabilmente mancheranno ancora certi aspetti da chiarire. Qualche errore, può esserci qualche screzzo che poi l'ha portato anche alle ultime vicende. Certo, per quanto riguarda le società di Lucca che non ci vedono di buon occhio, è una verità, però è una verità che io, che sono 40 anni e passa che vado allo stadio, ti garantisco c'è sempre stata, per cui tranne piccole parentesi dove magari il professor Bianchi aveva tessuto rapporti, diciamo, una certa stima reciproca con le società del territorio, questo odio verso la lucchese da parte delle piccole società c'è sempre stato. Poca simpatia, poca simpatia che conferma che nessuno è profeta in patria, in un certo senso, giusto? Sì, e per quanto riguarda i soldi appunto io, avete riscosso Tommaso, tutto apposto? Tutto bene. Perfetto, quindi abbiamo una testimonianza in diretta. I ragazzi che vengono qui, ora poi dite che parlo troppo, ma i ragazzi che vengono qui ci confermano sempre questo, quindi evidentemente le cose non vanno così male, non lo so, via. Poi è una società nuova, quindi neppure lui fece in un giorno fece tutto, gli ce ne voglero sei se non sbaglio. Sì, sette usi di posò. Ecco, quindi. Senza fare riferimenti blasfemi. No, no, no. Dice, complimenti per la precisazione, la Lucchese è la seconda miglior difesa del campionato dietro la Correggese. Che vanto? Eh, che vanto perché la Correggese è prima e noi siamo secondi, nel senso, è dietro chi si doveva essere, non ho capito? Il Barcellona o… il campionato è formato dalla Correggese prima, Lucchese seconda e poi tutte le altre. Se siamo la seconda miglior difesa dietro la Correggese che è prima, di un gol un motivo ci sarà, probabilmente… Sì, giovedì scorso la Lucchese aveva la miglior difesa… Guarda caso, è proprio quel gol che ci hanno fatto nello sconto diretto, per cui io credo che le squadre si equivalgono molto a livello numerico e conto che entro breve questi due punti qui vengano azzerati. Quel gol lì aspetta, poi dopo riprendiamo dopo, quel gol lì e quella partita lì finora sta facendo la differenza. Tu eri appena arrivato, che ricordo hai, che impressione hai avuto da quella partita, da quel confronto diretto? Ma l'impressione è che non abbiamo niente di meno della Correggese e ce la possiamo giocare serenamente fino alla fine, nell'ipotesi che ci si giochi tutta la partita finale, abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere la partita anche là. Secondo me siamo stati penalizzati dal terreno di gioco perché abbiamo visto la prima mezz'ora che il terreno ha retto bene, abbiamo giocato una buonissima partita, abbiamo messo in difficoltà creando diverse occasioni. Poi chiaramente dopo palla lunga e pedalare perché il campo non permetteva più di giocare e quindi è stata una partita, come diceva Giulio prima, che si può decidere all'episodio. Aveva una distanza fisica superiore in quel momento lì. L'ora aveva Luppi e te all'epoca non avevi ancora né De Luca, De Luca non era ancora disponibile mi sembra. Sì, entrò quella partita. Mi sembra che entrò nella partita. La ricordo poco quella partita perché non c'ero. Luppi quella partita lì non fece la differenza, si trovò la pala fra piedi e la misa in porta anche in maniera abbastanza brutta, onestamente. La differenza la fecero i Paganelli, la fecero il difensore centrale, un centrocampista, mi ricordo Possente, il numero 7, non mi ricordo come si chiama. La differenza la fecero i fisici in quella partita lì. Tra altre cose, Luppi, da quella partita lì è rientrato domenica scorsa. Ha fatto due gol però. Ha fatto due gol sul finire, però è rientrato domenica scorsa da Lucchese e Correggese, quindi si è perso. Però l'hanno assorbita bene questa assenza. 5-6 partite. Il giocatore così che aveva fatto solo 22 gol. Va bene, ci fermiamo, pausa pubblicità e torniamo. Abbiamo preparato l'approvabile formazione. Chissà se Gialdini ci sarà dentro, non lo so. Inquadratelo a mezzo gusto, le mani. No, 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 vabbè, che c'entra quello. Poi vediamo il prossimo turno e questa volata verso la Lega Pro. Mi scuso perché anche questa sera abbiamo solo le prossime 5 giornate, ma però vi prometto da giovedì prossimo che le metteremo tutte. Dalla quinta ultima le mettiamo tutte. Dalla quinta ultima le mettiamo tutte. E abbiamo ancora i messaggi. Sì, sì, ci sono ancora diversi. Tra poco. Sì, sì, ci sono ancora diversi.